ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo del prosciugamento del fucino la grandiosa opera voluta dall'imperatore romano claudio fino a 142 anni fa dove oggi c'è una fertile valle orgoglio dell'agricoltura abruzzese e italiana c'era il terzo lago più grande d'italia il fucino un lago un po anomalo il fucino che crea molti problemi a quei contadini che vivono e coltivano la terra intorno alle sue sponde già il nome dice molto sulle caratteristiche dello specchio d'acqua che talvolta sembra assomigliare più a una palude che a un lago fucino potrebbe significare seguendo un'etimologia preromana luogo melmoso un poeta greco invece chiama il lago palude di forco ispirandosi alla primordiale divinità marina che aveva quel nome oppure ancora potrebbe richiamare il colore rossastro di cui talvolta si tingevano le sue acque a causa di alcune alghe che richiamava le tonalità incandescenti di una fucina e non solo in tempi recenti ma già dai lontanissimi anni della roma repubblicana il fucino è un lago senza alcuno sbocco che aumenta o diminuisce di livello soltanto in base alle variazioni climatiche stagionali quando il bacino si riempie le sue acque allagano i terreni circostanti danneggiando le coltivazioni quando invece per effetto dell'insolazione il livello cala ecco che terreni paludosi rendono insalubre l'area soggetta alla malaria in epoca romana i marsi che abitano la zona chiedono al grande generale giulio cesare di provvedere in qualche modo alla bonifica di quella loro piana così fertile eppure tanto soggetta ai capricci del meteo lo storico romano svetonio racconta che giulio cesare ha in animo di provvedere con un'opera che avrebbe dato lustro e prestigio a roma progettando contestualmente una strada che avrebbe dovuto correre dal mare adriatico al tevere attraverso gli appennini il grandioso progetto viene fermato dalla sua morte per mano dei congiurati che vedono in cesare un pericolo per la sacra istituzione della repubblica che comunque dura poco i marsi continuano a chiedere aiuto agli imperatori che si succedono dopo la morte di cesare ma è solo claudio un'ottantina di anni dopo che da loro ascolto il progetto è estremamente ambizioso e quanto mai arduo occorre scavare una galleria attraverso il monte salviano che faccia defluire in parte le acque del fucino nel fiume liri i lavori iniziano nel 41 dopo cristo e si concludono 11 anni dopo la montagna attraversata da un canale e sei cunicoli serviti da 32 pozzi il tunnel nel ventre del monte salviano è lungo all'incirca sei chilometri passeranno 1800 anni prima che venga realizzato con ben altri mezzi un traforo più lungo quello ferroviario del fregius a compiere l'opera ci sono qualcosa come 22.500 schiavi e 7.500 operai tra muratori fabbri e carpentieri che lavorano giorno e notte alternandosi in tre turni il naturalista plinio il vecchio spinto dalla sua inestinguibile curiosità visita il cantiere e racconta si dovette tagliare con lo scalpello la roccia viva e ogni lavoro si dovette a prontare a turni implacabili nelle viscere del monte nella più totale oscurità cose queste che non possono essere comprese se non da chi le vide né il linguaggio umano è capace di descriverle quel progetto grandioso arriva a compimento nel 52 dopo cristo ma nessuno storico dell'epoca racconta quanti di quegli schiavi e operai morirono durante la sua realizzazione in compenso sappiamo anche se non con precisione quanti uomini rinchiusi nelle prigioni romane furono arruolati per partecipare al grandioso spettacolo organizzato in occasione dell'inaugurazione dell'opera furono all'incirca 19.000 claudio orgoglioso di quella mastodontica impresa di ingegneria idraulica vuole offrire ai presenti una rappresentazione degna dell'occasione qualcosa di indimenticabile una naumachia come non si era mai vista prima le battaglie navali non sono una novità per i romani ma quella sul fucino doveva oscurare il ricordo di tutte quelle precedenti secondo quanto scrivono svetonio tacito e cassio dione vengono appositamente costruite un centinaio di galee divise in due squadre che rappresentano due popoli i rodiesi e i siculi i prigionieri sanno che quella sarà una battaglia all'ultimo sangue e sfilando davanti all'imperatore lo salutano con la frase ave imperator morituri te salutant coniata almeno secondo svetonio proprio in questa occasione che poi diventerà usuale nella forma più conosciuta ave cesar morituri te salutant ad assistere allo spettacolo c'è tutta la roma che conta a partire da claudio e sua moglie agrippina con il figlio nerone che si godono la naumachia insieme alla corte da un palco sistemato proprio nei pressi dell'inghiottitoio dell'emissario sul lago ci sono le galee che si fronteggiano attorniate da decine di altre piccole navi dotate di armi messe lì a guardia dei forzati combattenti nessuno deve tentare di scappare a quel destino di morte le acque del lago si tingono di rosso non per le alghe ma per il sangue di tutti i morti e i feriti che lottano per il divertimento dei nobili romani ai pochi sopravvissuti l'imperatore claudio concede la libertà dopo la naumachia arriva il momento tanto atteso l'apertura del canale sotterraneo che deve far defluire parte delle acque del fucino la grandiosa opera si rivela un fallimento vuoi perché nel frattempo la porosa roccia carsica era in qualche punto franata vuoi perché il canale non era stato scavato a un livello appropriato dopo aver risolto quei problemi claudio organizza una nuova inaugurazione questa volta corredata da uno spettacolo gladiatorio all'asciutto e da un banchetto approntato sempre nei pressi dell'inghiottitoio anche in quella seconda occasione c'è un intoppo quando si alzano le paratie l'acqua si incanala anche in una galleria costruita in una direzione sbagliata e lasciata senza sbocco l'acqua che refluisce all'effetto di un maremoto e con la sua forza provoca dei crolli nella galleria sotterranea e inonda il palco dove è già in corso il banchetto della corte imperiale ancor più di claudio è furibonda l'imperatrice agrippina che accusa i due sovrintendenti ai lavori liberti narciso e pallante di essersi messi in tasca buona parte dei sesterzi stanziati per la realizzazione dell'opera quell'accusa cadrà nel vuoto e almeno per quell'episodio i liberti di fiducia di claudio non ne pagheranno le conseguenze nonostante tutti questi errori alla fine il bacino del fucino si riduce e si risolvono i problemi di inondazione e quelli dovuti alla paludosità delle rive l'agricoltura rifiorisce e le valli d'intorno vengono scelte dai nobili romani come luoghi di villeggiatura i cunicoli di claudio come sono chiamate ancora oggi hanno bisogno di continua manutenzione non solo per gli sbagli commessi durante la costruzione anche per la natura stessa delle rocce del monte salviano gli imperatori traiano e adriano investono soldi e forza lavoro nelle opere di mantenimento dell'emissario artificiale tanto che il bacino del fucino si rimpicciolisce ulteriormente quando però l'impero romano crolla nessuno più si occupa di quei canali che finiscono per ostruirsi del tutto solo 18 secoli dopo qualcuno ha il coraggio e i soldi per ripensare in grande a quel progetto è francesco primo sovrano del regno delle due sicilie che ordina di rimettere in funzione l'emissario ma è solo quando prende in mano la situazione il banchiere romano alessandro torlonia che l'opera inizia a concretizzarsi occorrono una ventina d'anni tra il 1854 e il 1873 perché gli ingegneri i tecnici e le maestranze vedano la conclusione dei lavori durante i quali viene recuperato in parte l'antico canale voluto da claudio è solo il primo ottobre del 1878 che il lago fucino viene dichiarato ufficialmente prosciugato grazie al costante impegno personale e finanziario profuso da alessandro torlonia che poi sarà investito del titolo di principe del fucino il lago del fucino si è trasformato in una delle pianure più fertili d'italia che vede incrementare la sua produzione agricola quando le terre del bacino vengono gradualmente espropriate alla famiglia torlonia al di là di ogni considerazione su nobili e cafoni marsicani ne parla ignazio silone nel suo fontamara il prosciugamento del fucino rimane una grandiosa opera di ingegneria idraulica nata dall'orgogliosa visione di un imperatore romano e portata a termine da un banchiere sempre romano che fossero sesterzi o lire quello che occorreva in fondo erano i soldi se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia cultura e leggende iscriviti al canale di vanilla magazine grazie a tutti Grazie a tutti.